ciao a tutti ragazzi ciao a tutti buonasera a tutti appena finita la partita la roma invece sta ancora giocando calma 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 sì sì semifinale sì grandissima prestazione della juventus credevate invece grandissima prestazione della juventus abbiamo asfaltato lo sport in glisbona una squadra fortissima piena zeppa di campioni una squadra che io quando 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 andato le formazioni inizio partita cioè tremava il computer tremavano i muri ho detto cazzo il terremoto invece no era la formazione dello sport in glisbona una squadra fantastica noi li abbiamo annichiliti asfaltati umiliati io non so neanche perché loro hanno voluto fare questa partita secondo me potevano chiamarci di ascolta state a torino perché siete troppo forti giocate troppo bene e noi noi qua giochiamo per divertirci la roma ancora 2 a 1 la roma andrei supplementare quindi grandissima prestazione di tutta la squadra ma soprattutto dell'allenatore che ingabbia lo sport in glisbona e non lo fa ragionare proprio lo sport in glisbona non riesce a fare un'azione non riesce a fare niente di niente di niente quindi noi siamo in semifinale grande juve grande massimiliano allegri un allenatore sontuoso un allenatore che non gli scappa niente e non era facile oggi giocare perché dopo che ti ha ridato i 15 punti indietro sai potevi avere anche un contraccolpo psicologico invece lui ha tenuto compatto tutta la squadra no perché si è vista oggi che la squadra era compatta perché ha avuto quei 15 punti quindi ha reagito la squadra e ha fatto una partita che è una partita fantastica io intanto a roma vai i supplementari io io volevo non finisse più sta partita perché era talmente bella da vedere talmente entusiasmante talmente appassionante che quando l'arbitro ha fischiato la fine volevo quasi partire andare a lisbona a dirgli ma che cazzo fai arbitro ma dai dai altri 40 minuti di recupero perché era troppo bella era troppo bella per durare così poco quindi grandissimo cesni grandissimo alexandro grandissimo gatti grandissimo bremer grandissimo locatelli grandissimo rientro di pogba grandissimo chiesa grandissimo vlaovici grandissimo milic grandissimo di maria grandissimo locatelli grandissimo miretti grandi grandi poi è danilo adesso non voglio quadrato quadrato un partitone ragazzi non lo tenevano non lo tenevano quadrato ragazzi io secondo me vincerà il pallone d'oro alla fine dell'anno secondo me in dicembre bisogna dargli il pallone d'oro perché guarda un martello pneumatico su quella fascia lì una bellezza guarda una squadra veramente veramente sono contento stasera sono felice siamo in semifinale adesso c'è il Siviglia ma del Siviglia ne faremo un sol boccone perché noi avevamo paura solo del Manchester ma il Manchester è andato fuori quindi del Siviglia noi ne faremo un sol boccone perché nella nostra rosa parte piena zeppa di campioni ma soprattutto non c'è noi possiamo giocare anche con le riserve che non ce ne frega niente ma soprattutto abbiamo l'allenatore più forte del mondo un allenatore che entra in campo e restano tutti a bocca aperta dire cazzo no c'è lui come faremo anche oggi a vincere e cominciano a pregare tutti i santi ma contro Allegri ragazzi non c'è niente da fare Juve Sporting Juventus 1-1 Juventus in semifinale di Europa League andiamo!